Eccoci qui amici rossoneri, ben ritrovati su Milannello, il nostro canale YouTube. Premessa, prima ho incontrato un ragazzo, se ci vede lo saluto, ho detto forza Milan, gli ho detto ma sei iscritto al nostro canale YouTube Milannello? No, non lo sapevo neanche. Ragazzi, dobbiamo diffondere la parola, il verbo anche di Milannello. Dunque, cerchiamo di far girare, di far sapere che c'è questo canale nostro, perché non è mio, è nostro, siamo una community e dobbiamo raggiungere sempre più milanisti possibili sparsi in Italia, in Europa e nel mondo. Siete tantissimi anche che ci seguite da paesi stranieri in Europa ma anche fuori dall'Europa e se ci penso, insomma, mi piacerebbe vedere da sopra e localizzarvi con delle bandierine rosse e nere per vedere poi, insomma, che bello vedere tutti i rossoneri sparsi nel mondo. Qui abbiamo anche questa funzione di unire, di avvicinare al Milan e ai milanisti tanti cuori rossoneri sparsi ovunque. Lasciate un like, mi raccomando, iscrivetevi qui se non avete ancora fatto, fate iscrivere anche i vostri amici, ovviamente, rossoneri. Poi ci sono anche quelli infiltrati che guardano, ogni tanto commentano, provocano che non sono milanisti e lasciano il pollice in giù, quindi tanti pollici in su. Novità, novità importanti, novità piacevoli, recuperi importanti, ci sono ancora dei dubbi. Prima l'avversario, il Napoli, squadra tecnica, insomma, di creazioni oggi tutto sommato non trascendentali da parte di Mister Pioli, che ovviamente dice temiamo l'avversario. Sulle audici deve migliorare nei tempi di gioco, avrete già letto sui vari siti. Il Milan deve sempre avere la scintilla e poi parla un po' anche dei singoli. Poi dice Iber è il nostro faro, ma il Milan è dipendente dal suo gioco. Vogliamo continuare a giocare ogni 3-4 giorni, cioè passare anche lo scoglio di gioia di... Domani c'è il Napoli che giocherà così, Ospinia, Di Lorenzo, Cullibali, Maximovic, Isai, Fabian Ruiz, Demme, Zieliski, Insigne, Politano e Ossimen. Questa dovrebbe essere la formazione, hanno fuori Petagna, Goulam, Ramani, Lozano e anche Manolas in difesa, quindi anche loro hanno delle assenze. Noi recuperiamo però alcuni giocatori e ci sono però dei dubbi sulla formazione. Intanto ieri vi abbiamo detto la bella notizia del rientro in gruppo di Celanoglu, che è abile e ruolabile. Vi abbiamo detto ieri la bella notizia, anche se era piuttosto nell'aria, del recupero di Teo Hernandez. E oggi un'altra piacevolissima, bella notizia, barra sorpresa, è il rientro in gruppo anche di Rebic. Dico sorpresa perché solitamente i giocatori che poi vengono convocati sono in gruppo venerdì. Però è stata una settimana un po' no, abbiamo giocato giovedì. Oggi in gruppo ha fatto la rifinitura Rebic e quindi Rebic sarà convocato. E questa è una bella, bella, bella notizia. Ma dall'inizio, oppure no, ora ve lo dico, ve lo spiego. Intanto sicuramente in porta Donnarumma, difesa con... partiamo da sinistra. Teo a sinistra, le certezze. Teo, Chiere Tomori, perché Romagnoli oggi ha lavorato una parte in gruppo, però sicuramente non parte dall'inizio domani. Fosse stato a disposizione e completamente recuperato, magari non sarebbe comunque partito perché Chiere e Tomori sono in forma oppure avrebbe potuto dare un turno di riposo a Chiere in chiave magari Manchester. Tomori con la rapidità di Ossiman è sicuramente un'arma da giocare. A destra, Calabria oggi non ha lavorato in gruppo, è in dubbio. Domani verranno fugati gli ultimi dubbi, però è molto probabile che non giochi. È quasi certo che non giochi, nella migliore delle ipotesi potrebbe andare in panchina. Detto questo, il ballottaggio è a due. Calulu e Dalò. Sapete che io sono stato un grande promotore del... facciamo giocare Calulu, valorizziamolo perché il nostro prodotto è forse anche meglio di Dalò. Le ultime partite però di Dalò al posto di Teo Hernandez tra Verona e Manchester hanno piacevolmente sorpreso. Per questo credo che alla fine giochi Dalò al posto di Calulu, ma non ne sono così certo. Lascio questo ballottaggio, anche perché su quella fascia abbiamo come avversario Insigne, che è un giocatore molto rapido e qualitativo, Calulu è sicuramente più difensivo rispetto a Dalò. Però dall'altra parte, Dalò che magari prova a offendere un po' di più, può impensierire anche Insigne in fase di ripiego e tenerlo magari non troppo in avanti. Poi, 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 a centrocampo che sì, straordinario, su che sì abbiamo una novità e vi rimando al termine di questo video. Con Tonali perché ha riposato, questa è una scelta di Pioli che ha lasciato intendere anche in conferenza stampa, pur apprezzando molto la crescita di Meite, ma deve far giocare anche Tonali. Meite è forse più utilizzabile e spendibile nella gara di giovedì in Europa League con la fisicità che può fare la differenza. Quindi Tonali è che sì. In avanti, altri dubbi. L'unica certezza è Leao. Leao che, insomma, deve interpretare meglio certe fasi della partita, certi movimenti, perché ogni tanto corre un po' a vuoto, ha detto Pioli. Va quando i compagni comunque non possono servirlo, quindi deve interpretare meglio le fasi della partita. Su questo siamo d'accordo. Magari avere un atteggiamento anche un po' migliore e un po' più voglia di mostrarla, quantomeno. I dubbi. Salemakers-Castieco. E sembra leggermente favorito Castieco. Ci può stare nell'ottica, mi sto mangiando un po' troppe parole oggi, nell'ottica magari di far giocare Salemakers giovedì in Europa League contro il Manchester. Dubbio. Altro dubbio. C'è la Noglu Diaz. C'è la Noglu fuori dall'intervallo della gara con la Roma. Sono passate due settimane. Però sta bene e in questo momento è leggermente favorito su Brahim Diaz. Dopodiché l'altro dubbio è tra Rebic e Krunic. In questo caso Rebic ieri non ha lavorato in gruppo, come del resto tutta la settimana. Personalmente e anche da quello che filtra c'è in vantaggio Krunic, che sta bene, è in forma e anche in fiducia. Con Rebic che può essere l'arma da spendere a gara in corso, eventualmente anche il giocatore da far giocare titolare giovedì in Europa League. Per questo, mettendo insieme le due esigenze, credo che Rebic partirà dalla panchina e che possa giocare effettivamente al primo minuto Krunic, che è in fiducia, scelta che ci può stare. Domani mattina, nella riunione tecnica, ci saranno le ultime valutazioni, la decisione definitiva, le decisioni definitive, perché come vi ho detto i dubbi sono diversi. Vi aggiorneremo ovviamente in tempo reale anche sui convocati. ballano ancora Romagnoli e Calabria tra panchina e tribuna. E questa è la situazione. Vi invito a lasciare un like, a diffondere il nostro canale tra gli amici. Iscriviti, è un bel canale, fidati di me, insomma funziona così. Non facciamo il porta a porta, perché ormai siamo quasi tutti in zona rossa. Però il Whatsapp, Whatsapp si può fare. Iscrivetevi qui, attivate anche la campanella. E ora vi rimando al video di pomeriggio in cui vi do due ottime notizie, una su Chessy e una su Ibra, e analizzo quello che a tutti gli effetti secondo me è uno scandalo. Di fronte al quale non faccio il piangina. Qualcuno mi ha detto sei un po' piangina. No, non mi piango addosso. Piangina è una cosa diversa. Però siccome un affatto scandaloso è giusto denunciarlo e alzare la voce senza farlo passare così in cavalleria. Questo è il video. Questa è l'iscrizione. Un abbraccio, forza Milan e un saluto a tutti. Buona serata.